Musica Allora Rafflesia, che cos'hai per noi? È la nostra inaugurazione, siamo impazienti di fare affari con te Oh, hai un volantino? Ottimo, ecco un regalo per te Cinque, no, quattro pomodori, ok, grazie Offriamo anche un servizio di coltivazione di verdure su commissioni Facci sapere se ti interessa No, insomma, non puoi andare sul tetto a fare le piante Anche perché non passano i giorni, te lo fanno loro Per lasciare che li coltivino al posto tuo Gli ortaggi cresceranno durante l'esplorazione dell'abisso Al tuo ritorno controlla se sono pronti Ok, ma al completamento o a quanto tempo io sto all'interno di un dungeon? Cioè, me li può fare anche mentre stiamo semplicemente farmando a quel punto Cosa vendi? Cura le alterazioni, ma sai che quasi quasi? Io per il momento comprare questo per Koromaru Ok, iniziamo con Yukari Che c'è? Ti serve qualcosa? Dovrei passare il tempo con Yukari, d'accordo Oh, ok, allora Ti va di chiacchierare? Chissà di cosa stanno parlando, in fondo Io, cercavo proprio voi Vi va a dare un'occhiata a questa serie tv straniera in DVD con me? Dici sul serio? Sai, abbiamo cose più importanti da fare Aspetta, ascoltami L'abbiamo trovata nell'abisso del tempo Quindi potrebbe essere stata prodotta dalle nostre menti o roba così, no? Beh, non è un'idea sbagliata Vero Tra l'altro è da un po' che volevo guardare questa serie Guarda quanto sono produttivo Wow E dai, solo un episodio, poi lo pianto Solo un episodio, ricordi? Non provare a convincerci a guardarne altri Sì, sì, lo so Cavolo, ora va proprio a rotoli Alla faccia del destino del mondo intero Davvero, è la produzione assurda Yukari è presissima Ah, c'è mancato poco Aspetta, ma finisce così Ma non hanno risolto niente Alla fine cos'era successo alla figlia? Ah, già, queste serie straniere lo fanno spesso Succedono sempre un sacco di cose Però cavolo, Yucatan E' ricontrare e vederla, ma ti ha proprio preso, eh? Beh, tu facevi un tale casino che ho dovuto prestare particolare attenzione per non farmi distrarre Ma che stiamo facendo comunque? Solo una perdita di tempo Le pause sono importanti Certo, però Beh, è stato piuttosto rilassante Quindi una volta ogni tanto si può fare Non possiamo mica dare il massimo quando serve Se siamo sempre sotto stress Sembra che la serie tv abbia aiutato Yukari a comprendere il valore delle pause Meno male Quindi adesso le cure sono migliorate No, sono abbassate di costo Esatto D'accordo, prossimo episodio No, avevamo un accordo La pausa è finita, andiamo Oh, che palle E io pensavo l'avessero finita onestamente Allora, Koromaru, anche se non ti capisco Koromaru mi sta pensando come se volesse qualcosa Dovrei dargli l'osso? Tienilo, è tutto tuo Grazie, capo Koromaru sembra contento Mentre sgranocchio il suo osso grande Beh, grande È leggermente più grande di un osso normale Sono cattivo Ti aiutano dal mio osso, bastardo Qualcosa non va? Ah, stanno litigando Che novità Allora, mettiamo in chiaro le cose Per ora sarei anche nostra alleata Ma non mi fido neanche un po' di te Non so se abbia ragione a non fidarsi Ma a inizio serie abbiamo visto lei E Aegis combatte contro lui e Ken Che sia stato sotto in flusso di qualcosa Che si siano litigati Non lo sappiamo ancora Però non credo scorrerà mai buon sangue tra loro due almeno Comunque Sanada, Insta o DLC si è mega incattivito Oh, credimi Le cose erano già chiarissime Era evidente da come mi tratti Eh, dai ragazzi Facciamo tutti un bel respiro E tu... Ehm... Ehi, Aegis Io esisto ancora, vero? Forse no Già, direi proprio di no Questo spiega come mai Si comportano come se non ne sentissero nemmeno Non so come è cominciata Ma batti beccano sin da quando sono arrivato Oh, ehi Mi sa che non ti conviene mischiarti, bello Tade buoni Cosa? Non sono affatto infantile Sono grande come tutti gli altri in questo posto Incredibile Un canno ha dovuto farmi notare che mi sto alterando troppo D'accordo Quando è troppo è troppo Ammetto di avere torto anche io Lasciamo stare Wow Ah, e va bene Cioè... Ha detto una Una cosa Cavolo Abbaia una volta risolvi tutto Sei proprio strabiliante Koromaru Ha detto una parola Una sola Che autorità Eh, lo so, sono bravo Sono bravo Lo so, lo so, lo so Percepisco un'aura solenne Emanale da Koromaru-san Ebbè, era comunque il cane di un... Di un prete Cioè, se non ne sa lui di cose Ha inizio battaglia E diminuisce la precisione Grande Koromaru Grande, grande Se c'è una lezione da trarre Che nulla batte il fascino di Koromaru Scommetto che potrei imparare un po' di cosette da lui Aspetta un attimo Ho praticamente ammesso di avere il meno fascino di un cane Oh, porca troia E vabbè, te la sei buttata da solo addosso Questa carico di merda addosso Junpei a sto giro Mi spiace dirtelo Ma hai fatto tutto tu Vuoi iniziare l'esplorazione? Andiamo L'incantesimo di fusione Banchetto onirico Di sicuro questa richiesta Si rivelerà perfetta Per ottenere ancora più Il potere del jolly È una sfida spaventosa Ma mi aspetto notizie Del tuo successo E quindi ovvero? Non sai che non l'avevo mai notato Che ci sono i livelli della sfida? Ah, questo ci dà il diavolo Sucube di un altro demone Quindi dobbiamo fare qualche fusione Per magari riuscire ad ottenere qualcosa Iniziamo a fondere qualcuno allora Beh, per un livello la posso comprare, sai? Potrei o lasciarla come attaccante di veleno Quindi potenze alterazioni Però a quel punto potrei fare una roba un po' più... Intelligente Perché stavo pensando che in alternativa Possiamo renderla un'attaccante divina Ma con le alterazioni Certo non è sto granché... Soffio pestilenziale Però potrei comprare slime E portarmi amplifiche potenzia di vino Quindi rifacciamo vasuchi Che tra l'altro ci guadagna anche Perché ha nebbia velenosa E quindi nel caso gli serva ce l'ha Ci prendiamo anche i zanagi E finalmente fondendolo Otteniamo succube Succube come la vogliamo Però Dannazione Ho dato per scontato una cosa Mi prende solo tre abilità Però in questo formato Me ne prende quattro di abilità Perfetto Con osè Ne prende quattro Grazie Quindi Soffio pestilenziale Potenzia veleno Potenzia di vino E amplifica di vino Quando troveremo questa carta Gliela insegniamo Che così si prende un altro 15% in più di busta E quando troveremo anche la carta Che aumenta anche gli status Quindi in questo caso abbiamo già il potenziamento del veleno Più il potenziamento degli status Potrebbe diventare una bella creaturina In alternativa Possiamo mettere un semplice Signore della magia Per dimezzare anche il costo di questa abilità E poi qualcos'altro In questo momento è anche superiore Di poco Ma è superiore ad angelo Angelo e succube Potevano essere un'interessante teorgia Sai Ci facciamo anche Black Frost Che così ci prendiamo anche la sua di teorgia Oh però aspetta Possiamo fare Susanomica male qua adesso Con polvere di diamanti Abilità e signore della magia Beh Mi piace l'idea Tanto è giusto per crearlo Non è che stiamo facendo chissà cosa Io sono Camus Susanom Le mie emozioni hanno preso una forma insolita Prenderò il loro potere travolgente E trasformerò in bellezza Susanom Delle tre persone di Yusuke Era la mia preferita Ok quindi Otteniamo l'abilità della teorgia Di King Frost Oh una Eccola l'abbiamo trovata Banchetto onirico Danno oscurità pesante A tutti i nemici Ignora la resistenza alta A chance di malia Perfetto Esegui banchetto onirico Ma non l'ho ancora fatto Vabbè Grazie Quindi palina del bus Che credo che non sia molto più forte Delle altre E venti fusioni Succube Non era previsto Che lo facessimo in questo modo Però Quindi dobbiamo occuparci Della sua debolezza Agli spari E alla luce Quindi già due se ne vanno Bersaglio multiplo E amplifica alterazioni Io direi Che secondo me Ce la possiamo cavare Certo Non la useremo per tantissimo Però per quelle volte Che magari vogliamo avvelenare qualcuno Perché no Dunque Prossima zona Antenora È la quarta porta È tutto pronto Anzi aspetta Prima fammi vedere il gruppo Allora Ho deciso che Mitsuru La lasciamo giù Perché tanto abbiamo Metis Che fa le abilità di ghiaccio Mi sembra molto Più utile al momento E siamo di nuovo qui Lasci che scansi Un piani inferiori Questa sensazione Sembra proseguire all'infinito Non saprei dire Quando arriverà in fondo Percepisco nemici potenti Di sotto Anche se sono ancora lontani Andateci piano Lungo la strada Vabbè Il segnale di quella porta E vai Nuovi equipaggiamenti Quanto saranno forti le ombre? Vediamo Mannine nere Sucube È la tua prima uscita Proviamoti subito Sono più pestilenziale Beh Comunque 500 Con un attacco divino medio Capiamoci che non è male Poteva fare di peggio Vediamo le ombre potenti Boh Non saranno una problematica allora Proviamo la nuova abilità Banchetto nirico Bello con loro due dietro Un po' sbagliata come cosa Però carina L'animazione è carina Ma quindi scappate? Sì Scappano Sa che non ho mai visto glaciazione? Proviamola Come Susano Bella Bellissima la Bella Porca troia Come animazione stupenda Semplice e pulita Per carità eh D'accordo D'accordo Vediamo i nemici Della monade Di questo piano Allora Vedo già il minotauro Incazzato Poi una manina E anche la spada D'accordo Minotauro 3 e 4 Soffio pestilenziale L'alternativa Decente A stella del mattino Per pagare di meno E il primo è andato Sarà debole al vento Questi qua della monade È un bene Sapere le loro debolezze Sai? Perché tanto se Devo stare qua a farmare È almeno Licido facile poi Debole al vento E anche il secondo Andato Ok Un gruppo di manine Mago supremo Delitta E Incantatore Beh Visto che usate Megidola Allora Io vado di soffio pestilenziale Divino per divino Ups Qualcuno è stato colpito Dal veleno Vediamo Al pugno Uff Facile allora Tutti e due al pugno Madonna mia Se vi devasto ora Questo giro di monade Sarà facile per noi Fatto Ok Questo è tutto di guadagnato Questa un po' meno Ma vabbè Prendiamola Quali saranno i premi Di questa zona? Fellonia Maledetto marrano 6 di forze 40 HP Ma che cazzo Di premi Sono sgravi Cioè Allora Parliamoci chiaro Non è sto granché Alla fine Ti dà SP E una statistica Non è terribile Ci sono robe ancora migliori Però porca troia Siamo al quarto dungeon E 6 di forza Cioè Capiamoci E una mano d'oro Così Neanche siamo arrivati Vabbè che Arrivati a questo punto Le mani d'oro Ci danno anche Meno di quanto ci dia Fare Una porta della monade Colpite E affondate Oh Finalmente Assalti aumentati E ci prendiamo Anche un po' di soldi Ovviamente uno spazio Deve sempre rimanere Libero per il matto Ci servono sempre Più punti esperienza Ti prego Ti prego Ti prego Talismano Dell'incantesimo Sì Sì Fantastico Grande Eccola qui La torre dell'orologio Andiamo a sfruttarla Immediatamente E usiamo proprio Mitsuru e Amada Come vi dicevo Sono quelli che Ho deciso di non utilizzare In questa run Per due semplici motivi Mitsuru Per carità Ha delle robe buone Soprattutto la sua abilità passiva Quella lì di Aumentare i critici Con gli effetti di stato Ma Ha delle Delle statistiche Degli attacchi Che non fanno niente Di eccezionale Purtroppo Ecco la catena E dacci Il diavolo Grazie E sono quasi tentato Di uscire e rientrare Ma Guarda Per il momento no E tieni la moneta Parti personalizzate Però effettivamente Questo potrebbe essere Un buon motivo Per uscire Perfetto Facile facile E aumentano anche L'oro di livello Alla fine per culo Abbiamo comunque Ottenuto la carta del diavolo A questo punto Non vale neanche più La pena uscire Guarda Se ci esce il matto Adesso da questa mano arcana Non usciamo proprio No E' uscita la luna Guarda In realtà Ha arrivato a questo punto Sì dai Perché così Mi sono ricaricato A Aegis Senza problemi Quindi è meglio così Guarda Vi state avvicinando Una presenza potente Fate attenzione Oh ma guarda Chi si rivede Ah Debole e pugni Allora è facile questo La zona è nostra Va bene vai Questo segnale Questi movimenti L'ombravida Si sta avvicinando Che poi sta mano Una qua La uccidi Solo per prenderti gli oggetti Cioè Niente più niente meno Alla fine Beh 21.000 punti esperienza Mica male Beh 10.000 yen Non male Non male È molto probabile Che lui lo rifaremo Per avere Amplifica E potenzia Ghiaccio Quindi fare tipo Lui Fuso con qualcun altro Quel qualcun altro Che rifonde lui Con Amplifica ghiaccio Ovviamente Per riportarci Sia signore della magia Che abilità magica Che polvere di diamanti Potrei già guardare Se ce l'ho In realtà Uh possiamo prenderci Kaguya E sai che quasi quasi E beh anche potenza congelamento Non sarebbe una cattiva idea Sai Lui con titania E quello che esce Per rifondere di nuovo Susano Beh Ce l'ha anche il nostro Frost nero Ora che ci penso Ora dobbiamo trovare qualcuno Che con lui Ce lo fa di nuovo Diventare Susano Con Flowers Facciamo cura Matengu Con Chuchun lane Otteniamo di nuovo Susano Ne è valsa la pena? Guarda Potevamo farlo più avanti Sicuramente Volevo farlo adesso Ovvio In realtà tutto questo Era scaturito Perché volevo fare una persona elettrica Poi ho pensato Però aspetta Se gli but Ma non ci pensare neanche Se gli butto su potenza congelamento Almeno possiamo farlo anche per gli status E quindi ora che abbiamo speso tutti i nostri soldi Niente persona elettrica Tieni Trenta fusioni Vero? Grazie Buttiamogli su anche potenza ghiaccio Che poi Susano È una persona D'attacco fisico Ovviamente Ma Se il gioco ci dà la possibilità Non vedo motivo Per non cercare di potenziarlo Ovviamente ci vorrà tempo Tanto tempo Andiamo a combattere Ma È solo Uno schifino Vabbè Maya frivola Ok Forse Ho già capito dove andiamo a parare con lei Vediamo se c'ho ragione Ovvio Ah sì La giochiamo in questo modo Davvero Faccia di merda Ok Allora Giochiamola in questo modo Non puoi resistere agli attacchi divini E lo sai Purtroppo nelle boss fight Non possiamo fare neanche gli status Però sai benissimo che agli attacchi divini Non ci puoi fare Una beata minchia Se avessimo avuto anche Coromaro Avevamo almeno il supporto di soffio pestilenziale Ma Giochiamola così E vaffanculo Oh ancora vivo questo Addio 40.000 E l'imperatrice Cosa fa? Ok Sì ma no Nell'ultima battaglia non ti ho ostacolato vero? Non ho fatto niente che non avrei dovuto fare giusto? Oh ma guarda la piccola cerca l'approvazione La pi Sorella non è vero lo sai vero? Non sono una bambina Chissà Ma Ti tengo d'occhio Cosa? Stavo solo scherzando sai Ah Junpei sembra il tipo di persona che piace ai bambini Ma in realtà non gli prestano molta attenzione Vero? Cosa? Ah non sono una bambina Sì sì ho capito Proseguiamo Oh io l'ho detto di Junpei tutto il tempo Ma Eucaristo DLC La madonna Eh Dea Poime Tu mi stai sui Dea Poime Vediamo cosa abbiamo qui Ok un quaderno Non so per chi potrebbe essere Sembra tanto una roba da fuga Grazia di Gaia Sarà meglio di quella Ma a quanto pare no Come sprecare inutilmente le chiavi E macchia del caffè Beh no Questo è per Per Amada La macchia del caffè è per Amada Palesemente Vabbè almeno qualcosa ci possiamo fare con ste armi Il cappello dell'Eminenza Lib Oh Quindi una carta in più E beccati Lascia di Gaia Sembra che abbiate ancora molta strada da fare Ah Aigis Se senti che sia troppo pericoloso Non strafare Ritorno in sale comune Non era richiesto questo consiglio Ma ti ringrazio per Avermelo dato Uh Doppie chiavi Grazie Altra porta della monade Come se tanto ormai ci fosse sorpresa Di questa cosa Direi che Appena usciamo Facciamo di nuovo cambio Togliamo magari Junpei Rimettiamo Koromaru E Akiko Uh c'è una mano d'oro Andiamo a prenderla Fermali Tre mani d'oro addirittura È Natale oggi Quando ci sono le mani d'oro Non si spreca proprio nulla Vai di attacco divino E via Questa è sopravvissuta Eh sì sì Qua soldi e punti esperienza Proprio come se Se fosse ovvia la cosa Capiamoci Cinquantamila Cinquantamila Buttali via Che c'è? Oh mi dispiace Stavo guardando E ho pensato Ho ripensato al vecchio leader Oddio Sto divagando Dovrei stare qui a fare Da supporto Ma dubito che mi sembri Molto d'aiuto Specialmente con tutti voi laggiù Che fate del vostro meglio Mi dispiace Aegis Cercherò di fare del mio meglio per te Beh il fatto di compararli Sicuramente È anche abbastanza ovvio Penso che alla fine Aegis La stiamo gestendo noi Per carità è ovvio Ma nel suo modo Sta facendo un ottimo lavoro Ovviamente Ah crescita Ottimo Rilevo una presenza potente Viene tra tre piani sotto di voi Fate attenzione Secondo boss fight Oh di nuovo l'ombra Ricevo di nuovo quel segnale È una forma umana Che strano Sembra proprio una persona reale Ma come potrebbe esserci Qualcun altro qui? Eh Ok quindi siamo Nel piano di intermezzo Prima della boss fight Di nuovo Altri sette livelli E possiamo prendere Caton Cager Beh volendo Prendo una persona di fuoco Per errore Io creai Questa Ecate Comunque niente male Potrei spostare Da lei Inferno E amplifica fuoco E prendere Qualcun altro Con abilità magica Signore della magia Posso però Metterla In maniera Diciamo canonica Aegis diciamo Che non essendo lei Propriamente Il jolly Ha acquisito Il potere Di un altro jolly Ha avuto il potere Di utilizzare Altre persone Quindi diciamo Che le persone In questo caso Di persona 5 Fanno parte Di questo enorme Potenziale Acquisito Quindi lei può usare Tutte le persone Che vuole Solamente perché Sono a disposizione Sto cercando Di canonizzare Le persone Dlc Vabbè Per il momento Risparmiamo Per Kaguya Rilevo un segnale Molto forte Giù in basso È tutto pronto? Andiamo Ok Una torre E un cavaliere Vabbè Mi chiedo Quanto ancora Ci vorrà Prima che capiscano Di chi è Quella figura Così misteriosa Quindi Castello Mortale E cavaliere Vendicatore Ok Nessuno Debole al vento Carichiamola Che è la prima volta Che effettivamente Lo facciamo Effettivamente Dovrei riprendere No E dai Aijis Ma porca Puttana Stavo dicendo Riprendiamo Chuchun lane Almeno Usiamo cariche Concentrazione Anche noi Ok Quello resiste Al fuoco Vediamo Debole a nulla Tu invece Debole a nulla D'accordo Quindi è uno Scontro Di potenze Giusto Ti giuro Che se mi fai cariche Concentrazione Ti ammazzo Ok Ok Te la giustifico Questa Vabbè Andiamo di teorgia A questo punto Iniziamo a fare Un po' di danno Pi 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 È un po' resistente Sto castello Ma giustamente Fatto di roccia Ci può stare Ci può stare Un po' anche troppo Che male Porca troia E visto che siamo carichi Ed è la prima volta Che vediamo Questo nuovo attacco Proviamolo su di lui Ok Bella Già inizia benissimo L'animazione Mi piace Bellissimo Quello lo faceva anche Aegis Quello lo faceva anche Aegis Nella vecchia teorgia E mi spiace Ho messo Guarda Lo sapevo che prima Poi sarebbe successo Io ho messo L'equipaggiamento Che gli bloccava Il buio apposta Poi verremo Shottati Sicuramente Da un colpo Anzi verrà Shottata Da un colpo Di luce Ma comunque Almeno l'oscurità L'abbiamo Assicurata Vabbè Vai Anche tu Junpei Dai Vediamo Quanto gli facciamo Non troppo Vero Ok Vabbè Però Però Almeno l'ha atterrato Bravo Junpei Bravo Allora Devo dire Che con Le poche carte Che abbiamo In questo giro Del Tartaro La cosa più intelligente Secondo me È sempre prendere Quella degli assalti Il diavolo E la giustizia Se vogliamo Proprio Massimizzare Ogni volta Il giro Più la giustizia Che il diavolo Però Almeno per prendere oggetti E chiavi È utile E se vogliamo Se vogliamo Il matto Queste quattro carte Sono le più utili Da prendere Assolutamente Secondo me E anche l'imperatore L'abbiamo preso 45.000 punti esperienza Buttali via Via di fuga E A livello 70 Quando ci arriveremo Quella figura è sparita È scappata dopo ogni incontro Vero Non so che intenzioni abbia Ma forse ha avuto paura Delle tue capacità di combattimento Sorella Dubito che sia così però Credo ci stia attirando Sempre più a fondo Cercavo solo di scherzarci Su Scusami Beh vogliamo proseguire Seguiamo con la figura Beh A questo giro Giro corto di parole 3 3 3 Speriamo di avere abbastanza chiavi Ok ce l'abbiamo Ah questo era da 2 Uff Meno male Quindi tanto uno Ah no è un body da guerra Da femmina Ok Yukari non l'ha voluto Il che vuol dire Che quello che abbiamo È anche meglio Autoribellione Vediamo quello da 3 Arma Gile ardente Ok Anche Junpei Non sembra esserne contento Per Sanada Ok Illusione al ghiaccio Ci può stare Ed infine Terzo forziere da 3 Vediamo Altra armatura Stemma spaziale Ok Stemma spaziale Rigenerazione 3 Guarda in realtà La cosa migliore Che è successa In questa battaglia È stata proprio Fuka Che ci ha ricaricato A tutti quanti Ottima mossa Fuka Perché Yukari Stava iniziando ad essere Carente di SP Guarda Se l'avessi saputo Avrei portato Coromaru Che porello Li ha finiti Però col senno di poi Sono tutti bravi Sai cosa però Che non stiamo trovando Gli oggetti Che ci danno Le nuove fusioni Speciali Il che è strano Però magari Oh Si sbloccano Andando semplicemente avanti Ed è anche Mega inferiore A quello che già abbiamo Ma Cioè scusami Ma io non capisco Come le abbiano fatti Sti premi Scusami Trovi la porta della monade E trovi Questa roba qua Che è 30 punti sopra E quando batti il boss Trovi sta roba qua Che è inferiore Non ha senso Quanti piani mancheranno ora Ho rivelato quella cosa strana E Aspetta Si sta spostando I piani inferiori Di questo passo Si continuerà a correre La perderemo Presto Ciuffatela Si come no E c'è di nuovo La porta della monade Che sorpresa Oh il carro armato Non ho nessuno elettrico Pensa un po' Pensa un po' la fortuna Dobbiamo andare a prendersa nada Avete quasi raggiunto Qualunque cosa abbia mandato Quel segnale ignoto Proseguite Fate attenzione Finalmente Ballerine leggere Non lo so Dipende dall'effetto Stavo giusto pensando Sarebbe bellissimo Se uscisse la torre Ballerine leggere Comode Wow Manco più lo sforzo Di fare un effetto C'è gli oggetti senza effetto Io li compro dal poliziotto Non dovrei trovarli Dentro il dungeon Potenza e bersaglio singolo Non potevi darmi quello multiplo Continuiamo con la nostra linea Di potenziamento Mitsuru Amada Visto che sono quelli Che usiamo di meno O vogliamo potenziare qualcuno Che effettivamente Ne avrebbe bisogno Continuerei con Amada E Mitsuru Onesto Perché sono già sicuro Che finirò a non usarli Mentre Koromaru Già il prossimo giro Di sicuro Lo rimetto in squadra Perfetto Se Amada mi apprende Qualche abilità di cura Abbastanza buona Potrei decidere Di cambiare Yukari Per un po' Vabbè Visto che Amada Adesso è superiore Ancora a Yukari Continuiamo ad usare Yukari Ci portiamo dietro Koromaru Eeeh Akiko Quanti soldi abbiamo? 100.000 Possiamo prenderci Kaguya Mi costa un sacco di soldi Assolutamente Mi interessa Relativamente Abbiamo bisogno di una persona Di tipo luce? Assolutamente Siamo poveri Ovvio Manina dorata Scopriamo subito Se i fantasmini Sono deboli alla luce Superando la mia solita regola Del se c'è una mano d'oro Si usano solo gli attacchi divini Vediamo Sì Mi sa che i fratelli Sono deboli alla luce Comunque lo ripeto L'animazione di Frecce splendenti E' molto più bella In persona 5 Non che qua sia brutta Però è più bella di là Perfetto Potenza bersaglio Multivo Grande Ok Eccoci qua Eh Ma siamo in fondo Ma quella cosa Giorerei che fossi qui Un secondo fa Mi dispiace Ho perso di nuovo Le sue tracce Stanno venendo tutti da te Dai un'occhiata Prima che arrivino Secondo me Fuka si sente inutile Ha un conflitto interiore Con se stessa E sta dicendo Ma non riesco a fare Neanche quello che so fare Porca troia Così Lei t'era proprio Incazzata addirittura Chi è il prossimo? Ah Junpei Prima che si unisse al gruppo O forse parla di Cidori Ok Sì Prima di unirsi alla squadra Probabilmente Oh ma c'è Koromaru Oh che bello Si che ce l'ho io Viva il santuario Capo Lo prenderanno per il culo Secondo me Ah no dai Forse no No dai No dai Non è vero, ma è un po' di più. È un po' di più, non è vero? Non è vero. È un po' di più. Quando si arriva, la via di 2 anni è avversa. Ah, allora. E poi andiamo a fare il capo. E' un po' di più. E' un po' di più. E' un po' di più! Pfff, ma non lo so, non lo so. Ma non lo so, non lo so. Takeba Yukari è un po' di più. Ah, Yukari addirittura Ah, parla di noi ex leader Ok, quindi è inizio anno Beh, oppure nei videogiochi Non mi sembra proprio la giornata, vero Junpei? Perché il padre è un ubriacone? Eccolo Beh dai, almeno non ha sbroccato Se solo ho girato un po' le balle Almeno non ha fatto l'isterico, dai No, mi spiace ma no Eh beh, ci credo Mi spiace, fra Me lo chiedevo spesso anch'io Sì, qua è proprio letteralmente Prima che entrasse nella squadra Non so che dirti, capo Hai proprio ragione Un giorno saremo amici, capo Oh, il disilluso Ma c'ero io, capo, con te C'ero io Allora, c'è da dire che Effettivamente questa parte Forse dà un po' di backstory Aggiuntive a vari personaggi Ma essendo che ci danno già un trofeo Ogni volta che ne vediamo uno Vuol dire che finisce lì E che non ci saranno ulteriori approfondimenti E che è tutto fino a se stesso Cioè adesso vediamo il lato triste di Junpei Che ha sempre guardato la vita Dal punto di vista degli altri Con un sorriso Con disinvoltura Quando in realtà C'aveva i cazzi suoi Bello, per carità, però Capo Ti voglio bene, capo Eh sì che ero io, capo Ero io, ero io Infatti ora ci siamo fatti degli amici Ah, proprio lo ste... Ah, quel giorno Beh Poverino Dio mio Come distruggerlo proprio E ridi su sto cazzo Fuca E avete pure salvato il mondo Quindi Hai davvero fatto qualcosa per tutti Vediamo cosa dice Metis Eccola Beh sì Esatto Era salvare il protagonista Credi di cosa? Bella domanda Ma Quello è vero Ma te l'ho detto Secondo me lei è un'anomalia Secondo me lei è un'anomalia Semplicemente Che c'è Junpei? Cavolo C'è qualcosa che proprio non quadra Come se avessi perso Il mio solito stile Vuoi vedere che sblocca Adesso L'abilità che aveva con Chidori Però andiamo Non è che sia nulla di tanto diverso da prima Che mi prende così all'improvviso Forse sto solo Iaia No, non può essere Smette di pensare così Junpei Come mai sei così in difficoltà Iori? In difficoltà? E chi sarebbe in difficoltà? Di certo non io Mi sbagliavo? A me sembra proprio di sì invece Le abilità indebolite delle nostre persone Hanno reso più difficili gli scontri Vero? Capisco il tuo disagio Ma non sei l'unico ad affrontare questo problema Stiamo tutti vivendo la stessa complicazione Sì, lo so Lo capisco Ma... Questo non è proprio il mio punto forte Rassicurare la gente Intenendo Richiede un certo intuito Sembra che nominare Aegis La nostra leader sia stata la scelta giusta È questa la motivazione La cosa ti sorprende È del tutto naturale Cercare aiuto Per compensare le proprie debolezze Hai ragione Ora che ci penso Era ovvio che avresti detto così Avrei dovuto già saperlo Perché non mi è venuto in mente? Tutte quelle cose che riguardano te Senpai E anche me Iori? Eh, non preoccuparti per me A me sta bene essere la schiappa Perché nessuno è perfetto, no? Non sono d'accordo con questo risveglio Ci sta Ha capito Vabbè Non sono migliore di nessuno E quindi, per carità Però avrei preferito Che avesse avuto un mezzo Anche minimo Minimo ricordo di Cidori Per avere questa abilità Così non ha senso No No Non ti seguo più, temo Ma se ti aiuta a stare meglio Allora non conta altro A dire il vero sono sollevata È da un po' che non vedevo Quel tuo sorriso spensierato Oh, davvero? Forse è proprio così? Sai Il tuo sorriso mi ha riportato Alla mente qualcosa O piuttosto qualcuno Che voglio proteggere Non per il bene della famiglia Ma per me stessa Cioè, intendi Una persona amata Lo trovi buffo, Iori? Attento a come parli Accidenti Come l'ho detto Però scusa Se non parla del protagonista Di chi parla Comunque Un po' ti capisco, credo I momenti In cui siamo tutti insieme Beh Sono i ricordi A cui tengo di più Precisamente Ah Così Vabbè Va bene Ok Ci aggiungi i pezzi Fuka? Hai trovato altre parti, vero? Vuoi che le installi? Andiamo Imboscata è stata potenziata Come segue Vediamo Dopo aver attaccato i nemici Da dietro alla barra D'arturgia salirà Niente di che Però Meglio di nulla A proposito Aegis Nell'abisso Hai incontrato un paio di volte Una figura umanoide Giuste? Hai notato qualcosa di particolare Grazie a Juno Ho capito Che sembrava Un'altra persona Un'altra persona? Assurda Impossibile Qui sotto ci siamo solo noi Possiamo parlare fino alla nausa Non cambierà nulla Se si farà vedere ancora La prenderemo Potete scommetterci Non c'è molto altro da fare Peccato che no Non la prenderete Quindi Un oggetto per Metis L'altro per Fuca Immaginavo Un po' di tona e